Ciao a tutti e bentornati a Monogame, il gioco che noi della compagnia dei leggendari vi proponiamo per tenervi in allenamento dopo tutto questo periodo di inattività che abbiamo dovuto subire per questa quarantena. Il monologo che proponiamo questa settimana in realtà è un'improvvisazione, quindi non avrete un testo di riferimento, solamente questo video. Le regole quindi sono due. La prima, la durata di tre minuti massimo. La seconda, voi dovrete seguire la trama del monologo che vi racconterò, che sarà una breve storia in realtà, e seguirla e raccontarla con parole vostre. Il tempo massimo ricordo è tre minuti e potrete mandarci i vostri filmati sia su Facebook che sul numero WhatsApp che troverete qua sotto nel commento del video. Andiamo a iniziare con questo monologo che ha come titolo Maturità. 20 giugno 2029. Alessio ha appena finito l'orale del suo esame di maturità. È andato benissimo ed è molto contento, ma a differenza dei suoi compagni che stanno già pensando alle vacanze o a divertirsi. Lui sta pensando a una promessa che ha fatto esattamente nove anni fa, perché il 20 giugno 2020 suo nonno moriva vittima dell'epidemia, della pandemia. Quel giorno lui si è fatto una promessa e ha detto che nessun altro bambino avrebbe sofferto come lui per la perdita del nonno. E ora sta pensando a quello, al suo futuro, all'esame da missione a medicina. 2035. Alessio ha appena finito di discutere la sua laurea. Il titolo della tesi è Epidemiologia virale da zoonosi. Trenta e lode con un bacio accademico. Molte offerte di lavoro lo aspettano in tutta Europa, ad Hamburgo, Nizza, Amsterdam. Soltanto lui vorrebbe restare in Italia perché Silvia, la sua compagna, aspetta un bambino e vuole starle accanto in questo periodo molto delicato. Ma dall'Italia non c'è nessuna offerta. Forse Nizza non è poi così tanto lontana e proprio mentre sta pensando questa cosa, una telefonata da Pisa gli cambierà la vita. Un'offerta di lavoro. Sì, certo, i fondi non saranno quelli che avrebbe avuto all'estero, però potrà sia esercitare che fare ricerca. Accetta al volo. E così, nella ristrettezza economica in cui si ritrova, deve agguzzare l'ingegno. E nel 2043, a terra Stoccolma, con lui c'è Silvia e il piccolo Edoardo, che oggi ha l'età che aveva Alessio quando si è fatto la sua promessa. Alessio è qui per ritirare il suo Nobel per la medicina, per aver trovato un nuovo metodo di sintetizzare vaccini più economico e più efficiente. La sua promessa è mantenuta. Bene, questo è il monologo. Spero che abbiate seguito bene e che, insomma, l'improvisazione non è facile. Però vi garantisco che con un po' di allenamento potrete farcela. Aspettiamo i vostri video e quindi vi esortiamo a provarci. Mi stavo dimenticando. La vincitrice del primo episodio è stata indubbiamente Chiara Pantani, che con il suo video ha già passato il centinaio di visualizzazioni e ha ottenuto molti like. Complimenti, Chiara. Aspettiamo il tuo monogolo anche per questo.